Faccio parte di quella migliata che poi sono stato fortunato, ho dovuto fare la mia carriera come giocatore e come al lento. Ha vinto proprio la Totti Sorkescu del presidente Francesco Dotti. Francesco è bravo in tutto. Era già successo in passato, ha cambiato una proprietà e Ragneri ne ha pagato le conseguenze, così sembrerebbe. Evidentemente ognuno di noi ha un karma e il mio è questo. Ma scusi, mister, lei che idea si è fatto su un organico che sta nascendo? Quale il mese di ottobre di quello? Ho fiducia in loro.